Deculpa Sonoris Deculpa Sonoris è un progetto commissionato da Mittelfest 2019, Leadership, ed è un programma che indaga il potere, la natura del potere, attraverso sue diverse manifestazioni. La prima parte di questo concerto è composto da musiche che esprimono quattro diversi momenti, quattro diverse espressioni dirette del potere. Quindi il potere nel momento della rivolta al potere, che poi in fondo altra non fa che suggerire, che proporre un nuovo potere, un potere altro. Il potere all'interno delle dinamiche della relazione d'amore, il potere attraverso la parola e i discorsi del potere, e infine il potere all'interno del rapporto tra artista e uomo e stato e luogo del potere. La seconda parte del concerto è composta invece da un unico brano, che è il brano che dà il titolo a tutto il programma, che è appunto Deculpa Sonoris, dove il potere viene scandagliato attraverso non più la sua diretta manifestazione, ma attraverso le manifestazioni del suo posto e complementare, dell'altra faccia della medaglia del potere che è la colpa. Deculpa Sonoris è un pezzo di teatro strumentale per violoncellista ed elettronica nato dalla collaborazione che ho avuto con Paolo Ralla e che presenteremo appunto al 14 luglio, in prima esecuzione assoluta, dove si indaga la natura della colpa nelle sue espressioni, nelle sue manifestazioni fisiche, gestuali e sonore. E per questa immagine ci siamo lasciati guidare da William Shakespeare e nello specifico da Macbeth. E per questa immagine ci siamo lasciati un po' di teatro strumentale, che cosi Dio, che cosi Dio, che cosi Dio e Il